oggi verrà a casa mio padre guardate qui c'è un po di sta funzionando la lavastoviglie qui fuoco a manetta li abbiamo preparato qui perché le scale non riesce a fare questo è il letto provvisorio per oggi qui era poltrona qui il nuovo tra batin tra batel e qui il divano abbiamo per il momento ecco guardate e il signore il signore bello luna così c'è così c'è vuoi le coccole vuoi le coccole tu vuoi le coccole ok mi ha messo qui provvisoriamente il tavolo che poi voi vediamo che fine farà per mio conto io lo butterei mio nipote non vuole buttare e lo vuole regalare va bene anche quello ma qui non può stare di certo sopra non riusciamo portare da dentro guardate come è tutto una confusione qua dentro perché dobbiamo rimettere tutto a posto qui prima dormiva qui mio padre ma adesso abbiamo portato la sua poltrona qui che l'abbiamo e qui è tutto una confusione qui fa freddo non potevamo metterlo perché è già fresca d'estate figurati l'inverno e qui c'è una baranda di roba perché dovrò mettere a posto e se vorrà sparire anche la poltrona regalarla anche quella ma non si può tenere qui non c'è abbastanza luce aspetta vedete vanno lì qui il letto ancora fatto di sfarlo e metterci sopra qualcosa finché non si capisce luna andiamo fuori 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 via brava sì perché se lo più lo qua dentro il gatto dopo vai a cercarlo e adesso andiamo dentro qui ero wifi ho deciso fatto tutta vi spiego vieni davvero a grattare dopo ho fatto tutta una confusione ieri è venuto una persona ad aiutarmi a mettere sky però dopo sono riuscita tre ore e hanno detto che semplicissimo loro è sempre tutto semplicissimo però quelli che non come si dice non sanno come fare non è semplicissimo e dopo io ho sintonizzato tutte la tv tutte le reti che c'erano nella normale televisione però su sky si vedeva primo secondo terzo rete 4 italia 1 canale 5 lotto mi pare il 7 e qualche altro canale adesso non mi ricordo il numero 0 io non so dove dovevo andare a guardare poi c'avevo che netflix ho fatto quella di netflix però ma non mi sono messo nel telefono invece che sulla televisione non so se dovevo mettere la password quella che avevo messo nella televisione ma anche questa storia qui dovrebbe essere tutto già collegato quando ti arriva tutto ma non ci capisco niente quindi ho intenzione di portare di tutto tenere solo la fibra adesso vediamo quando vado tenermi solo la fibra e basta perché non sono capace usarlo tocchi lì tocchi il telecomando ti va via lo schermo dopo non riesce a vedere niente una confusione totale ho dovuto staccare e rimettere la televisione normale va bene quella ci vediamo dopo quando torna mi arriva mio padre ciao qui sono arrivata su delle scale questa è la stanza del gatto lì dove dorme il suo mangiare e qui devo mettere a posto oggi non ho ancora messo a posto qui metto a qui dove esce ogni tanto adesso qui ci sono detto delle scarpe di mio padre qui ancora scarpe di mia madre qui è un armadio a muro c'è di tutto dentro qui e dove era prima mio padre c'era televisione e dove era prima mia madre e anche qui sarà quando arriverà al letto sotto sto per a portare di nuovo su l'altro letto lo mettiamo lì e qui facciamo qui è solo da fare questa cosa qui mettere un po posto pulire poi chiuderla e basta un casino di roba in giro poi qui è la biblioteca è qui a posto insomma abbastanza quello i bagni ma i bagni non mi faccio vedere questa è una stanza che doveva fare mio padre il bagno ma che questo qui più è uno scappuccino più di tanto non si può mettere a posto perché c'è ancora il cemento quindi qui sono un muratore se riesco a farmi il bagno qui è dove stendo e dove stiro qui sono tutti i pigiami di mio padre un po di mia roba la daison che si sta vediamo qui quasi tutto quello che c'è qui sopra è da buttare quasi tutto qui è sempre un gran questo penso che è la prima che metterò a posto perché si può neanche passare queste sono tutte vhs se qualcuno è interessato ai vhs le regalo le regalo tutte non so se si vede bene o male però le regalo vedete qui è tutto così guardate quanta roba e tanta ne ho già buttata via una bambolino vedete tutte queste finestre sono di legno vedete e sono da cambiare quando si perché se tiri un sasso qui si rompe vetro sottile sono tutti qualsiasi fissi da cambiare tranne i miei ma se cambierò tutti i miei fissi toccherà cambiare anche i miei può farli tutti uguali se ci sono ancora e qui insomma è ancora tutto uguale una scelta di confusione anche qui sarà da mettere a posto ma prima devo mettere fuori per dopo poter mettere dentro e vi ho fatto vedere il tour della mia casa prima di metterla di cercare di metterla a posto io sono qui in tenuta casalinga vi mando bacioni e ci vediamo con i vlogmas con i vlogmas a dicembre ciao amici ciao bacio di bacio grazie a tutti